Benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Maragazzoli Oggi siamo ritornati qui ragazzi con la serie dei bot Stamattina è uscito un video Ragazzi vedete la gente che sta iniziando a unire Ragazzi devo farvi vedere che Lupus Leaks Può anche mettere La skin Iris La skin del S20 Quindi se facciamo Punto esclamativo Mettiamo skin Iris Vediamo un po' se la mette Vediamo un po' Inviamo Andiamo un po' Eccola qui ragazzi Skin Iris ragazzi Skin Iris Ragazzi tutti i miei Skin Iris ragazzi Poi se volete ragazzi possiamo fargli mettere Tutti i body ad esempio Che possono uscire Ad esempio possiamo mettere punto esclamativo Emote Emote E mettiamo pochi ragazzi Bado che deve ancora uscire Pochi di Pokemon Quindi X Vediamo un po' Nooo L'hanno cambiato Rimettiamo pochi dai raga Uè Uè bro Bella ragazzi Il video si può concludere Anche qui ragazzi Vi ricordo che se volete Vi ricordo che se volete Spawnare la skin Iris Su un bot Schivere Punto esclamativo Skin Iris Inviate Il bot diventerà Totalmente Da skin Iris Poi vabbè Per i balletti Punto esclamativo Emote Potete mettere Potete mettere quello che volete Ragazzi La clip come vedete Si è staccata prima Perché sono entrate Un paio di persone Iniziate a urlare Iniziate a far casino E quindi Le ho tagliate Ragazzi Prima di concludere il video Vi ricordo di supportarmi Sempre all'interno Negozoggetti Fortinet Col codice Cattore Social Trattino 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 E schiacciate Accetta Niente noi ci vediamo Al prossimo video